Musica Allora Paolo, il matrimonio con Full Aces sembra funzionare, perché insomma il rush continua Come stai? Self Mind come va? No va bene, infatti ho detto al Presidente che lo pagherò io per portare la Reginetta hai sentito? Per portare perché da quando ce l'ho solo premi per adesso, comunque va bene Quanto è importante sedersi al tavolo convinti dei propri mezzi? Perché so che ogni giocatore ha un arco Ogni tanto le cose vanno meno, altre volte vanno meno Tu venivi in un periodo difficile, ti sei seduto, hai ricominciato a giocare il tuo poker, i risultati sono arrivati, non è un caso No no è vero, è proprio così, come si dice il nostro è un gioco di onde Quindi quando si vede che va bene, si ha più fiducia e sicuramente si gioca meglio Ciò che bisogna fare è non perdere mai la fiducia e continuare a credere nei propri mezzi Come va oggi? Raccontami questo torneo di Venezia, so che a te Venezia piace venire, insomma è un posto, un'allocation interessante Raccontami come sta andando la giornata tua oggi al Deuno Sì qui è bello, mi piace venire anche perché sono vicino a casa Andava meglio fino a poco fa, avevo più di 100.000 Adesso ne ho praticamente quasi 60, quindi insomma non va male, il torneo è giocabile Quindi per ora va bene così Siamo qui, noi andiamo in pausa cena e poi ovviamente torniamo a giocare a poker Ok, buon appetito, grazie Grazie Grazie